Mamma felice in forma smagliante, nonostante un parto avvenuto poco tempo fa, è sempre bellissima. Claudia Gerini è arrivata alla Casa del Cinema di Roma in occasione di professione attrice, la rassegna che propone una serie di appuntamenti con gli interpreti del cinema italiano, a cura di Franco Montini. L'incontro è stato preceduto dalla proiezione del film diverso da chi in cui la bravura di Claudia spicca. Per la compagna di Zampaglione tanti fotografi e anche tante domande. Disponibile e cordiale, Claudia ha salutato con affetto anche gli amici di Gossip News. A Gossip News un bacio da Claudia. A Gossip News un bacio di Gossip News un bacio di Gossip News. A Gossip News un bacio di Gossip News.